Si intitola Alberto Sordi Secret, il docufilm di Igor Righetti che racconta la vita privata di uno dei nostri attori più amati. Nelle sale Alberto Sordi Secret, docufilm che racconta la vita fuori dal set di uno dei nostri attori più amati. Leonardo Metalli. Il racconto del nipote Igor Righetti, Alberto Sordi Secret, gli inizi, le passioni, le manie, le fortune di un gigante della commedia italiana, tra verità e finzione. I segreti di Alberto Sordi in un film che poi è un po' reportage, un po' pellicola. Si, la parte diciamo filmica è proprio quella con in bianco e nero anni 20 e 30, con tutta la sua infanzia e la sua adolescenza che nessuno conosce, quindi è veramente emozionante e divertente. E poi c'è la parte invece documentaristica con tantissimi personaggi, da Rosanna Valetta più piovati, dove invece raccontiamo l'Alberto Sordi, non soltanto da bambino ma anche da adulto, ma i segreti anche qui, tutto l'Alberto Sordi privato. Ma questo non è il tuo pubblico! In casa non ci voleva proprio nessuno e io ricordo da bambino, quando andavo con mia nonna, che tutte le porte erano chiuse a chiave e se volevi andare in bagno dovevi chiedere la chiave. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne manco. Amin.